Sabrina Salmaso, 24 anni, laureata in scienze dell'organizzazione all'Università degli studi di Milano Bicocca. Sono Giulia Carini, ho 23 anni, ho studiato informatica presso l'Università Statale di Milano. Ho scelto di studiare informatica perché sono sempre stata affascinata dalla tecnologia e dall'informatica fin da quando ero più piccola. Ho scelto questa facoltà perché è un percorso di studi finalizzato a formare esperti di organizzazione e di risorse umane che è da sempre stato il mio obiettivo. Sono arrivata in Zucchetti avendo visto l'annuncio che è stato pubblicato sul sito dell'Università. Sono stata contattata da Zucchetti tre anni fa dopo la fine delle scuole superiori ma ho preferito proseguire gli studi universitari e entrare nel mondo del lavoro adesso. Ho scelto Zucchetti per il mio stage perché è l'azienda leader in Italia nel settore del software e per un'informatica come me è stata una scelta naturale. Ho scelto Zucchetti in quanto conoscevo precedentemente questa realtà aziendale e tutti me ne hanno sempre parlato molto bene. Inoltre è stata l'unica azienda che mi ha proposto un vero e proprio progetto formativo finalizzato ad acquisire le competenze che l'università richiedeva. Sicuramente uno degli aspetti positivi dello stage è stato che fin da subito mi sono sentita parte di un gruppo e inoltre tutti i colleghi dell'ufficio e non mi hanno sempre supportata sia nello svolgimento dei miei ultimi esami universitari anche nella stesura della mia tesi. Ho partecipato a un progetto che mi ha consentito la realizzazione della mia tesi grazie alla collaborazione del mio tutor e dei miei colleghi che si sono dimostrati molto disponibili. Ho avuto modo di mettere in pratica quello che fino ad ora avevo visto solo in maniera teorica. Nel corso dello stage sempre accompagnata dal mio tutor o comunque dai colleghi ho avuto l'opportunità di partecipare attivamente ai colloqui di selezione acquisendo anche un po' di autonomia. Sicuramente in Zucchetti ho trovato una realtà giovane, una realtà dinamica composta da persone che sono sempre pronte ad aiutarsi l'una con l'altra e collaborare e inoltre ciò che mi ha spinto poi a rimanere anche in Zucchetti è stato il fatto di aver avuto la possibilità di svolgere il lavoro per cui ho studiato. Ho deciso di rimanere in Zucchetti perché ricopro un ruolo che corrisponde a quello per cui ho studiato e ho trovato una realtà nella quale mi trovo a mio agio in quanto giovane e dinamica. Consiglierei a chi si trova a scegliere il proprio stage di trovare una realtà nella quale possa mettere in pratica le competenze acquisite e che gli permetta di crescere e di formarsi. Sicuramente consiglio a tutti quelli che stanno ricercando uno stage di non accontentarsi e di scegliere appunto aziende che propongono un percorso formativo reale e volto a rendere l'esperienza di stage veramente unica. Inoltre consiglio di non focalizzarsi solamente sul nome dell'azienda ma effettivamente sul contenuto anche se io sono stata fortunata e ho trovato sia il nome ma soprattutto contenuto. Oggi sono cinque mesi che faccio parte ufficialmente di questa società con un contratto di apprendistato e ho voglia di rimanere e continuare a crescere e di imparare all'interno di Zucchetti. Sono in Zucchetti da più di un anno ormai e mi sento già parte attiva di questo gruppo. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!